Numerosi studi dimostrano come l'integrazione tra la fisioterapia tradizionale e l'uso di device tecnologicamente avanzati migliora la outcome nella riabilitazione. Quali sono questi dispositivi e come si usano? Ne parliamo con Alessandro Giustini, direttore dell'ospedale San Pancrazio in provincia di Trento, membro del comitato scientifico del gruppo Santo Stefano Riabilitazione e responsabile scientifico della European Robotic Rehabilitation Summer School. Benvenuto professore. Grazie, salve. Professore, in quali ambiti della riabilitazione è possibile usare questi dispositivi? In moltissimi ambiti perché la varietà di questi dispositivi tecnologicamente avanzati ed alcuni robotici è veramente cresciuta moltissimo negli ultimi anni. I disturbi, prima di tutti i disturbi cognitivi del linguaggio, dopo ictus per esempio, dopo trauma cranico, ma anche disturbi cognitivi dell'età evolutiva connessi per esempio con paratetraplegie dell'infanzia, disturbi cognitivi anche dell'età evolutiva cognitivi e comportamentali come l'autismo per esempio, ma anche ovviamente i più conosciuti disturbi motori legati a traumi, ad amputazioni, a traumatismi dell'arto superiore e dell'arto inferiore, della colonna, del midollo spinale, quindi paraplegici, e perché questa nuova tecnologia applicata alla riabilitazione ha veramente grandissime potenzialità, diverse. faccio alcuni esempi, una è la realtà virtuale, cioè delle attività che sono cognitive, motorie, di linguaggio fatte di fronte a uno schermo che può dare l'immagine di esercizi, di attività per gli arti superiori, per gli arti inferiori, oppure colloquiare con altri personaggi che sono nello schermo e l'altro, diciamo, aspetto sono invece proprio le apparecchiature robotiche che fanno muovere la persona, fanno muovere gli arti con i propri motori, che adeguano il proprio movimento in certe situazioni avanzatissime anche al progetto di movimento della persona. professore, professore, chi propone l'utilizzo di questi dispositivi? l'utilizzo di questi dispositivi fa la grafia riabilitativa, quindi deve essere una valutazione e considerati le sue caratteristiche e le sue potenzialità possono essere scelti alcuni di questi dispositivi, nelle varietà che ho appena accennato, che siano integrabili con la terapia che tradizionalmente veniva offerta a queste disabilità, a questi pazienti, per renderla più efficace e più risolutiva. Quindi è il fisiatra in accordo con gli altri specialisti che si sono occupati del paziente anche nella fase acuta, per esempio il neurologo, il neurochirurgo, il rianimatore e in alcuni casi, per esempio con il cardiologo, l'internista, però la prescrizione, la scelta è proprio parte della terapia riabilitativa. Certo. Ecco, professore, che benefici apportano rispetto ad una terapia riabilitativa tradizionale? I benefici sono prima di tutto la possibilità di ripetere molte volte l'esercizio, quindi l'allenamento, molto di più di quanto non possa essere fatto semplicemente con l'applicazione e l'attività del fisioterapista o del terapista occupazionale. Il terapista e il terapista occupazionale rimangono al fianco del paziente e del robot per guidare l'esercizio, ma si supera il problema molto banalmente della fatica con l'attività del robot. L'altro beneficio molto importante è per il paziente che comincia ad acquisire la sensazione di poter fare lui, quindi non è qualcuno che gli fa fare il movimento, ma è lui che comincia a fare il movimento e che guida, almeno crede inizialmente, di guidare il robot e quindi ha una motivazione, uno stimolo sempre maggiore al recupero, verso il recupero. E questo diventa un elemento fondamentale per il suo impegno perché è chiaro che è lui che si riabilita e questo è un fatto molto importante in riabilitazione, cioè la motivazione e l'impegno. Certo. Senta professore, appunto la Santo Stefano Riabilitazione promuove e ospita l'edizione 2021 della European Robotic Rehabilitation Summer School. Ecco, è un evento che approfondirà i temi legati alla riabilitazione dell'età evolutiva con l'ausilio di apparecchiature robotiche. Si svolgerà fino a settembre. Qual è l'obiettivo di questo evento? L'obiettivo è, questa è la quarta edizione di questa scuola europea che riunisce docenti e partecipanti da tutti i paesi europei per condividere esperienze cliniche, per confrontare metodologie di trattamento con l'applicazione di queste apparecchiature tecnologicamente avanzate e robotiche e anche per sviluppare dei gruppi di ricerca molto ampi con una numerosità della casistica adeguata alla complessità della riabilitazione per raggiungere delle evidenze scientifiche di efficacia. Quindi l'operazione ha un aspetto didattico per condividere la teoria e anche la pratica perché poi è importante l'utilizzo reale da parte dei partecipanti di queste apparecchiature e nello stesso tempo è un inizio di una grande piattaforma di ricerca che possa a livello europeo perfezionare l'applicazione di queste apparecchiature a queste casistiche. Questo è lo scopo generale della scuola. Certo. Quest'anno ci occupiamo della problematica della riabilitazione in età evolutiva che è sempre molto importante in tutti i paesi europei e ultimamente se ne è parlato forse un pochino meno rispetto ad altre problematiche ma è veramente un problema gigantesco nel quale tecnologie evolutive, tecnologicamente evolute e robotiche ha trovato una grande applicazione. Pensate per esempio alle paratetrapegie dell'infanzia, ai disturbi cognitivi dei bambini, all'autismo con la realtà virtuale. Certo. Ecco, noi ringraziamo il professore Alessandro Giustini per essere stato qui con noi oggi il nostro ospite, direttore dell'ospedale San Pancrazio di Arco in provincia di Trento, membro del comitato scientifico del gruppo Santo Stefano Riabilitazione e responsabile scientifico della European Robotic Rehabilitation Summer School. Grazie professore. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.